Riunione conviviale speciale per il mese di ottobre per il Panathlon Club Mondovì che ospita Diego Colombari. Sì, abbiamo ripreso prima con alcune serate che abbiamo organizzato all'aperto a bordo piscina allo sport in Mondovì e poi con alcune conviviali che siamo già riusciti a organizzare al chiuso data anche il cambio di temperatura in cui abbiamo avuto degli atleti di Ironbike, pallavolisti e poi adesso questo grosso regalo che ci fa Diego Colombari di essere qui per una sera con noi. Un'occasione per promuovere lo sport e le buone pratiche. Sì, è proprio una delle finalità del nostro club, quello di promuovere lo sport, il fair play nello sport anche, quindi la correttezza, uno sport pulito che si muove verso i giovani e verso le donne, verso chi normalmente è un po' più svantaggiato nella società dal poter fare sport.